Gli studenti assumono un ruolo di responsabilità per il paese. Anche in provincia, nelle ultime 24 ore, data l'emergenza coronavirus, è partita la campagna solidale Servi una mano, volta ad offrire un aiuto in particolare agli anziani e alle persone maggiormente in difficoltà. La campagna è promossa dalla rete studenti medi del Veneto e dall'Unione degli Universitari del Veneto. Siamo giovani, siamo volontari, vogliamo aiutare in questo momento difficile tutte le persone che, perché over 65 o perché immunodepresse, non possono uscire da casa, facendo per voi la spesa e recandoci al posto vostro in farmacia. Se avete bisogno e non c'è nessuno che può prendersi cura di voi, chiamate il circolo Hauser più vicino. Vi metteranno in contatto con noi e riusciremo ad aiutarci tutti. Durante le operazioni rispetteremo le norme di sicurezza per evitare che sia i nostri volontari che le persone che assistiamo siano messe a rischio. La solidarietà non può andare in 40 anni in questo momento difficile e il bellunese deve resistere a questa nuova grande sfida. Sono già oltre una trentina i giovani bellunesi che in meno di 24 ore hanno aderito alla proposta, candidandosi attraverso l'apposito modulo. A supportare l'iniziativa sono anche alcuni circoli Hauser del territorio, nonché l'ospice GL di Belluno. I circoli sotto la guida dell'Hauser provinciale si sono inoltre attivati autonomamente per svolgere tale servizio. Nel frattempo anche vari esercenti bellunesi si stanno adoperando per la consegna a domicilio di farmaci e alimenti avendo ricevuto il plauso delle amministrazioni locali come nel caso del comune di Pieve di Cadore. Scegliere i negozi del proprio paese si ha la regola sempre. È questo l'appello lanciato infine dall'UNCEM. Unione Nazionale Comuni, Comunità e Enti Montani ha maggior ragione in questi giorni.